Il primo a rompere il ghiaccio ad esibirsi si chiama Fadi Benvenuto, ciao Io sono Fadi, Thomas, ho 31 anni e vengo da Rizzone Da Rizzone, non si vede ma si sente Lì lavori in un albergo di famiglia? Sì, in mezzo è una pensione Sta partendo il gettone, ognuno di voi avrà 60 secondi per presentarsi Lavori nell'albergo di famiglia, ecco di qua che stai facendo il caffelli Fai un po' di tutto? Sì, spattacco un po' con tutto Senti, ci sono due persone che ti vogliono molto bene e che ci hanno mandato questo video per te Lo vediamo insieme Dai Fadi, mi raccomando, facci fare una bella figura, bocca al lupo Numero uno, vinceremo, vinceremo Chi sono? Sono Gastone e Bruno, sono due elettrauti, sono praticamente i miei nonni adottivi, li adoro Quando mio padre è venuto su, perché mio babbo è nigeriano e mia mamma è italiana, di Rizzone Quando è venuto su dalla Nigeria per imparare dai migliori al mondo come si mettono le mani nei motori Eh sì, loro sono elettrauti, gli danno una mano con la parte elettrica Mentre mio babbo è più meccanico, un dottore delle auto Fadi, vieni Questo è lo spazio di esibizione Grazie Grazie